battle royale soldato indica un punto di lancio per il team evitate il gas andate alla zona sicura soldato nemico in arrivo versagli disponibili al lavoro uapin nemico in volo uapin nemico in volo uapin nemico in volo soldato nemico in arrivo uapin nemico in volo uapin nemico in volo uapin nemico in volo UAPI NEMICO IN VOLO UAPI NEMICO IN VOLO UAPI NEMICO IN VOLO GASSI IN ARRIVO Alla nuova zona sicura Ne restano solo 25 UAV nemico in volo Cassa di scorte pronta per il recupero Perfetto per il recupero Perfetto per il recupero Perfetto per il recupero UAV nemico in volo Contratto annullato è finita Nemico in discesa nell'area operativa Perfetto per il recupero Perfetto per il recupero Prezzi delle stazioni di acquisto Perfetto per il recupero 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 UAV nemico in volo Perfetto per il recupero 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 Spostamento nella zona sicura. Avete del gas in arrivo. Gas in arrivo. Zona sicura riposizionata. Ultima possibilità, soldato! Spostamento nella zona sicura. Spostamento nella zona sicura.